Sì, ogni società ha un modo diverso di descrivere questi schemi. Jung, per esempio, ha basato molto il suo lavoro su questi schemi. Jung e Carl Gustav Jung. It's one of the most important basics of Jung, is in effect the same pattern. Sì, la base proprio dei suoi più importanti lavori comunque sono questi stessi schemi. Sì, la definizione di Jung era questa. Separazione, 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 separazione e sintesi di opposti, sì, che è in alchimia. Sì, è la separazione scientifica e significati in alchimia. Sì. Well, Jung knew and he had to express it in a way that Germans could follow and he did a wonderful job. Sì, Jung conosceva questo e ha trovato un modo di spiegarlo in termini che fossero comprensibili per i tedeschi, allora. It made comprehensible in writing and experience, of course, is two different things. Sì, ma che una cosa sia comprensibile scritta e poi comprensibile a livello di esperienza sono due cose diverse. Sì, so we'll get some great experience today, ok? Avremo oggi un'esperienza diretta di questo. Delle esperienze dirette, delle esperienze dirette. Delle esperienze dirette. Una domanda. Leggendo i vari luci, sotto gli luci c'è scritto parla. Parla come gli ho diciamo. Però, tranquillità, come mai sono ripetuti sotto diversi luci? Parla come gli luci ricini e l'interno. Parla come gli luci, con i luci. Parla come gli luci, con i luci? Prendi anche un luci. Ad esempio, può parlare in un luci, con i luci, con i luci. Sì, come Ezio, per esempio, che può parlare in un ristorante, così come può parlare a un albero, così come può parlare mentre fa sesso. Sì, un Orcia potrebbe parlare con qualsiasi Odù, ma c'è meno probabilità che lo faccia con certi Odù. Ma il linguaggio cambia, secondo me, Odù? Sì, ovviamente l'energia dell'Orcia che parla con quell'Odù cambia. Sì, ovviamente l'energia dell'Orcia che parla con quell'Odù cambia. Sì, ok, la domanda è cos'è un Orcia? Sì, nel sciamanesimo nigeriano è una divinità. E a loro piace avere i ballerini, cioè chi si vesse e travestono proprio e vengono posseduti da questo Orcia e sono tutte queste danze e vitti. E la stessa energia sono dei grecchi di Ohala. In fact, if you do work, like constellation work, without Orishas, it won't work. Poi quando si fanno dei lavori di tipo con le costellazioni, se non si lavora con gli orisciaccio non può funzionare. Perché non stai recuperando la forza guardiana di quella persona. So, Heliger removed the guardian forces because he was Catholic. Heliger, he removed what makes it work and then sold it to the world. Sì, lui l'ha fatto funzionare e l'ha venduto poi al mondo. Ma se rimuove questa forza guardiana, rimuovi ciò che è necessario per far sì che funzioni. Sì, ma un buon cattolico è probabile che si comporti così. Si, avrebbe potuto utilizzare dei santi, ma quello l'ha avrebbe reso troppo cattolico. No, Heliger usa anche gli archetipi della Bibbia. Ti può fidare una persona al cremo di Abramo, per esempio. Ha ripulito le costellazioni di tutta la patria. La Bibbia è sciamanica. E la condita... ...e la condita con i traditi della Bibbia. Si, dovresti utilizzare un libro che rende onore a delle forze femminili in modo più esplicito. Quindi non si potrebbe utilizzare una traduzione della Bibbia come quella del re James. Sì, perché alcune parole che sono femminili in plurale, per divinità, sono tradizionate come Lord God. E le persone pensano che sia mascolino. Perché alcune parole che sono delle divinità femminili nel plurale, vengono tradotte come Dio, il Signore Dio. Per esempio, questi non sono degli archetipi molto dinamici come quello di utilizzare Abramo, per esempio. Io ho visto su la televisione australiana che parlava proprio di come grande fosse la fede di Abramo. E questo era un pomeriggio di domenica e un programma per bambini. E se l'idea fosse quella di qualcosa di comico, comedia ironica, proprio sarcastica, sarebbe stata una cosa geniale, ma invece l'intenzione era proprio quella, per davvero. Lui c'era Abramo con il suo figlio e tutti questi... What do you mean by sticks? ...wood to make a fire. Ah, e con tutta questa legna che si portava addosso, no? And the child carrying the sticks to make the fire says, Daddy, where is the animal we are going to sacrifice today? And it's nice, sweet boys. E c'era questo bambino che, rivolgendosi al padre, con la legna che si portava la spalla e diceva, Eh, Papà, quale animale prenderemo oggi per il sacrificio? Because the son was carrying the sticks for burning this animal after the death. E il bambino portava con sé questa legna proprio per il sacrificio dell'animale. Per bruciare l'animale dopo il sacrificio? Si. E Abramo ha detto, well actually, my son is you that I'm going to sacrifice. E Abramo, ma guardate tu. Eh, figlio mio guarda che sei tu quello che... Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito.